Babadook è un film del 2014, intanto se volete scrivermi in chat se l'avete visto, di una regista donna che si chiama Jennifer Kent, e questo è molto importante, che è uscito in formato 4K, è uscito in 4K, Steelbook, Commitney Factory. Adesso vi faccio vedere l'edizione, motivo per cui sono qua a parlarne, perché appunto il fatto che sia uscita questa edizione ha fatto sì che io lo rivedessi in questa qualità, tanto per cominciare, anche in lingua originale. Ho voluto cercare di andare un po' oltre, visto che il film l'avevo già visto, non mi aveva colpito particolarmente, però è passato anche un po' di tempo. Ora è un film che capisco meglio, poi vi spiegherò perché. Intanto vi faccio vedere l'edizione. L'edizione è una Steelbook però particolarissima, dentro ha un libro, ed è il libro di Babadook, non sto scherzando, ma proprio vedete ha un libro, è incollato nella parte inferiore, e come potete vedere c'è tutto il libro di Babadook. Ovviamente questo non è un libro pop-up, perché sarebbe stato un po' complicato, ma su una carta meravigliosamente opaca c'è stampato tutto il libro di Babadook, che racconta un po' la storia, appunto, di quello che accadrà ai nostri sfortunati protagonisti. Poi alla fine del libro, adesso, alla fine vi faccio vedere tutto, ci sono le foto, anche ci sono le analisi del film, come vedete, e poi in fondo c'è un contenitore per i due dischi, uno è il Blu-ray e uno è il 4K, il 4K è di là, porca troia, scusate, vado a prenderlo. Giustamente era nell'Xbox, dove ho il lettore appunto 4K. Allora, dentro ci sono appunto i due dischi, questa volta ci sono tutti e due. Uno è il 4K, uno è il Blu-ray. Allora, il film racconta la storia di una mamma e un bambino che vivono in una grossa casa da soli, perché purtroppo il marito, padre del bambino, muore. Muore quando? Muore quando nasce il bambino. Quindi vediamo questa madre apparentemente serena e questo bambino inizialmente apparentemente sereno, che però in realtà è il primo a mostrare una non serenità. Adesso vi faccio vedere il trailer e poi vediamo un po' la trama e anche agli aspetti, diciamo, cinematografici interessanti. Allora, ragazzi miei, c'è una cosa importante da cui partire. Intanto che questo film sembra un po' posarsi su uno stampino, no? Lo stampino della mamma col bambino e la casa col mostro. Il mostro nascosto nello sgabuzzino, il mostro dello scantinato, il mostro sotto al letto, il mostro alla maledizione, qualunque cosa, abbiamo una storia, eccetera, che possa rovinare la quiete di questa famiglia. Questo effettivamente è un cliché, è un cliché rafforzato ancora di più da Babadook, nel senso che poi ci sono stati tutti i Babadook non riusciti, che quindi fanno sembrare questo film in realtà un film banale, ma non lo è. Questo film, sì, porta un cliché come storia, ma in realtà, se lo guardi attentamente, è un film molto realistico. Ed è uno di quei film in cui bisogna stare attenti a non guardare il dito quando si indica la luna. Cioè, se noi vediamo questo film in cui c'è un mostro che si chiama Babadook, appunto, che è anche rappresentato da un libro, un libro che racconta tutto quello che accadrà, se noi ci concentriamo su Babadook e quindi sul dito, non vediamo la luna. E la luna è la madre. Ed è una metafora molto bella perché la madre è un faro per i figli, è un punto di riferimento, e la luna lo è per i naviganti del mare, o è comunque illumina, è un faro anche la luna. Quindi non bisogna concentrarsi su Babadook, perché Babadook è un'allegoria. Babadook, il mostro, è una metafora. Quindi se noi guardiamo questo film pensando, oh, mi guardo un bel film di mostri, non lo capiamo ed entriamo in un meccanismo sbagliato, nel senso che poi possiamo renderci conto nel viaggio che effettivamente non siamo di fronte proprio a un film su un mostro, ma a qualcos'altro. Potremmo fare questo switch, ma per coglierlo a pieno bisogna partire già dal presupposto che il mostro non è un mostro reale, ma è un mostro allegorico, un mostro che rappresenta qualcosa. Ora io ho detto, se uno guarda questo film senza conoscere alcuni fatti della vita, forse non lo coglie completamente. E uno di questi fatti della vita, che secondo me è il tema principale, qualcuno ha parlato di elaborazione del lutto. C'è un tema qua di elaborazione del lutto, perché comunque il padre del bambino muore, il compagno di lei muore, quindi c'è qualcosa che viene a mancare. Ma secondo me, nonostante ci sia anche questa componente, secondo me il tema principale di Babadook è la depressione postpartum. Cioè, una purtroppo, una malattia, chiamiamola, che si sviluppa sotto varie forme, a vari livelli, nei confronti di tantissime donne, insomma, e che è ben rappresentata in questo film, dove vediamo una madre che apparentemente è una madre tranquilla, ma secondo me è un... e questo è un po' un gioco del... è un po' il gioco del film. Cioè, farti pensare che quello tranquillo non è il bambino, quello non tranquillo è il bambino, e quindi è il bambino la causa scatenante della follia, dell'esasperazione. In realtà, quello che io ho visto nel film, che vi sono rappresentato, è un bambino purtroppo già traumatizzato, traumatizzato da questo male. No, per cui il bambino già lo vede. Quindi un po' il gioco è questo, no? Mostrarti questo bambino esasperato, un bambino che grida, un bambino che è particolare, che dice le cose come gli vengono in mente, e che urla, strilla, batte i piedi, si arrabbia, se ne va, non viene creduto, se ne va. E poi parleremo anche di questo bambino e del come mai non è stato capito dal pubblico. Anzi, parliamo adesso del perché non è stato capito questo bambino. Questo bambino non è stato capito perché difficilmente noi conosciamo questi problemi e ci proiettiamo in questa situazione, no? Ma se io penso che questo bambino è nato da una madre vedova che, come vedremo poi appunto, ha una depressione, una depressione che è subdola, ha una depressione dei sorrisetti, ma è una madre sofferente questa, una madre che ha tutto in risolto, non sarei così cattivo con un bambino che cresce dal giorno uno in questa maniera, no? Con una persona che gestisce da sola una depressione post-parto, più un lutto come questo qua. Quindi il bambino inizia a sclerare, il bambino vede questo male, vede il male. Lei non lo vede, lui lo vede. Poi a un certo punto il bambino è come se riuscisse in qualche maniera durante la storia, infatti tutto è narrato come se questo mostro fosse qualcosa, un'ombra che si aggira per casa, che si rivolge a lui principalmente, no? Che vuole lui, perché vuole lui in realtà. vuole distruggerlo, vuole annientarlo, no? È la causa. Forse è la causa della morte del marito. Se non fosse nato, se non fosse... se lei non fosse rimasta incinta, non sarebbe successo tutto quello. Quindi lui vuole quella cosa lì. Tutto questo percorso di infestazione, di persecuzione del bambino è tutta questa voglia del bambino di farsi credere. È come se fosse la volontà sua di tirar fuori il problema. E il problema a un certo punto viene fuori. La madre che inizialmente non crede al bambino inizialmente non gli crede e poi inizia non solo non gli crede ma poi inizia anche a detestarlo questo bambino. Gli risponde molto male in modi molto violenti. Lo minaccia. A un certo punto cercherà di ucciderlo trasformandosi in un personaggio molto simile a quello di Jack Torrance in Shining cioè il genitore infanticida il classico genitore che impazzisce e uccide il figlio uccide la sua prole il mostro che c'è dentro la madre viene fuori totalmente e la madre passa da stati di lucidità a stati di mancanza totale di lucidità quindi fondamentalmente perché la madre impazzisce? Non c'è nessuna ragione di impazzire no? C'è un mostro hai scoperto pure che è un mostro reale perché in realtà tutto questo è appunto l'allegoria di questo male incurato di questa psicopatia questa malattia mentale questa difficoltà mentale psicologica che la madre sta vivendo perché io la leggo così chiaramente perché secondo me questo film a un certo punto ti dà anche una una spiegazione non solo al film ma anche un insegnamento di vita ti dà questo insegnamento che io andrò a spiegare adesso porterà uno spoiler cioè lo spoiler della fine da adesso è spoiler allora perché dico che c'è un insegnamento di vita e c'è una conferma secondo me del fatto che questa rappresentazione mostrifera sia un'allegoria di un disagio mentale di una difficoltà mentale che ovviamente io descrivo come depressione postparto proprio perché avviene subito dopo il parto cioè avviene cioè c'è un un dramma prima del parto e poi c'è una una situazione risolta perché ovviamente lei affronta questo mostro lo affronta in modo personale ma anche familiare ci combatte e il bambino la aiuta perché perché è così che avviene nelle famiglie ci si aiuta a volte non si affronta da sola sta cosa e il bambino sarà un grande appoggio per lei per affrontare questa cosa ed è una cosa che accade nelle famiglie che i bambini a volte siano dei bastoni su cui appoggiarsi o funi a cui aggrapparsi sono dei compiti che non dovrebbero svolgere ma che purtroppo la vita a volte ti pone in questa situazione il punto clou è quando lei batte questo mostro lo espelle da sé fisicamente lo toglie dal comando però rimane con loro perché? perché psicologicamente il questo tipo di cose non si riesce a respingerle a cancellarle a tagliarle fuori come un braccio che ha la cancrena lo tagli o un'infezione lo tagli e ti salvi e vai via rimane no non lo puoi fare con questo tipo di cose con questo tipo di cose ci puoi solo convivere le puoi solo accettare e portare avanti con te quindi creare un nuovo io una nuova idea di te stesso che accetta l'ombra io ho visto ho visto questa allegoria perfetta di questo crollo psicologico che mi è sembrato proprio questo quindi per me è un film a livello proprio di oro psicologico tra i migliori usciti è veramente la creme della creme da questo punto di vista come è rappresentato in ogni singolo passo scena rappresentazione di rabbia di esasperazione di insicurezza di paura di mancanza di controllo c'è di tutto e di più chi l'ha vissuta in prima persona in famiglia o in prima persona o una persona cara sicuramente vedrà questo film e dirà è un film incredibile perché saprà leggerlo esattamente per quello che è è veramente un film che porta un argomento consistente non stiamo parlando di fantasmi non stiamo parlando di mostri che vengono dal sottosuolo stiamo passando parlando della nostra ombra l'ombra di questa madre è lei infatti che fa va a patti con quest'ombra è lei che va a patti con l'ombra non sarà il figlio al figlio gli dice tu la potrai conoscere quando sarai grande dal punto di vista cinematografico me lo ricordavo un bel film in realtà è ancora più bello di quanto me lo ricordassi questo è un film che mi piacerebbe analizzare davvero in ogni singola scena perché secondo me ci sono ci sono tante cose che sono molto belle che sono molto intelligenti vi voglio far vedere la bellezza di ogni tipo di inquadratura che c'è in questo film non c'è niente di sbagliato e scorretto non andrò sulle scene finali così non è spoiler per chi sta guardando è una finta serena questa sua serenità labile si percepisce è come se la regista avesse voluto far capire che lei sta su un filo di rasoio una cosa che mi è piaciuta parecchio è come il rapporto tra lei e suo figlio sia molto intenso molto profondo fatto di sclerate di urla ma anche di momenti di dolcezza è proprio un rapporto intenso mentre i rapporti esterni sono quasi surreali frivoli surreali superficiali le persone fuori sono distanti sono non sono come in una come se se loro come se fossero in una bolla staccate proprio quindi la la sorella è staccata le amiche della sorella i colleghi il dottore tutti sembrano quasi non non sentire questa cosa che sta per esplodere in questa famiglia come se proprio fosse tutto all'interno questa è una bellissima rappresentazione di come poi in realtà si svolgono veramente questi drammi psicologici si svolgono esattamente così all'interno nascosti sono e sono fortissimi e fuori non si ha la percezione di niente tra l'altro nei film ci sono delle citazioni di vecchi film horror molto belle ma non lo so ragazzi guardatevi anche solo ogni singola ogni singola inquadratura è qualcosa di bellissimo dal punto di vista della fotografia interpretazione ai monstri di lei e anche il bambino il bambino il bambino chiudo anche il discorso sul bambino perché all'inizio ha dato molto fastidio anche a me e penso che fosse la volontà della della regista e a un certo punto il bambino dà fastidio anche a lei perché è perché è esasperata perché ha una crisi non è lucida non è in grado non è nel ruolo giusto in quel momento perché è perché è malata però non si può aspettarsi che un bambino si comporti in modo del tutto innaturale immaginatevi i bambini degli altri film horror vedono i mostri vedono i fantasmi e non urlano non sono esasperati non hanno scene isteriche non hanno fanno scenati isteriche questo bambino è un bambino che vive da solo con sua madre ha dei problemi e ha delle crisi isteriche allora io quando lo vedo penso wow sta mettendo in scena qualcosa di reale di credibile e alla terza volta che lo vedo comportarsi in modo diciamo così fastidioso ho pietà in realtà perché vedo un bambino che soffre non lo vedo come un personaggio di un film che vorrei uccidere capito perché mi sta sul cazzo perché sono dentro al film perché sono dentro al problema di questa donna perché mi medesimo nel genitore quindi è molto difficile apprezzare un film così profondo su una problematica così profonda se si è superficiali no? come un qualsiasi che ne so avrete sentito qualcuno parlare dire ah i bambini al ristorante hanno rotto i coglioni o dire cose violente contro i bambini no? avrete sentito dire così ecco io lo trovo lo trovo molto strano molto strano in questo film c'è un dramma e c'è un bambino che è la prima vittima di questo dramma però è anche il capro ispiatorio di tutti quelli che vedono questo film tutti lo odiano io come è giusto che sia ho detestato le sue urla all'inizio ma perché era quello che voleva la regista ma poi credo che il compito dello spettatore sia capire che ti trovi in un grosso dramma in cui la vittima le due vittime sono appunto queste due mamma e figlio che insomma vanno un po' compresi più che eliminati diciamo senza contare che gran parte del film il bambino ha ragione il bambino ha sempre ragione e sempre dalla parte della ragione nessuno gli crede nessuno gli da retta nessuno ascolta la sua richiesta d'aiuto quindi è molto particolare come poi questo film crei delle cose come questa che boh è strana secondo me non è molto normale che altro vi devo dire ragazzi per me è un film assolutamente tra i migliori degli ultimi anni e devo dire che l'ho apprezzato molto di più in questo momento perché in questo momento io ho passato un sacco di cose molto difficili nella mia vita e penso che questo film lo possano capire tutti così come lo sto capendo io come l'ho capito io ma non perché uno è idiota l'altro è scemo l'altro è frivo l'altro è stronzo ma perché a volte se non ti passa un treno sopra non hai quel terzo occhio per una serie di cose che ti permette di vedere dove gli altri non vedono e lo stesso varrà per me per altri argomenti è abbastanza normale quindi bisogna accettare il fatto che a volte i film non ci arrivano perché non ci appartengono non perché sono brutti